salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi è domenica siamo sempre qui al river park per la gara dalle 7 di mattina che sono arrivati i primi piloti che stanno girando adesso mettiamo in carica le batterie facciamo subito una scarica abbiamo fatto già la prima qualifica abbiamo preso una seconda posizione subito dietro anzo scortichini quindi team martens si piazza con un bello 12 nella prima qualifica di brushless ora vediamo come andranno le seconde e terze qualifiche e vediamo poi come ci posizioniamo in vista della gara dice vediamo dopo ok non ti appoggiare non ti appoggiare in braccia dopo che ti capisco no no io ho stato con tutto dalla vicina niente santo ho stato con l'acqua dalla vicina che mi trovo che mi chiamo ma non lo hai chiamato no no ma non lo hai chiamato 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 no non lo hai chiamato ...degli irrigatori, se la domanda io sono dei miei irrigatori qui. Tacconi il cellulare. No, non è un attimo, non è che ti alza il dito che vai al bagno, eh. Io ti osservo. Lo sai? ...degli irrigatori. Grazie. 10 secondi al via. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ...erre... 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 Grazie a tutti. Quattro minuti al termine. Ok, piloti si parte al suono della tromba, mi raccomando. Pista aperta. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Erneso, lei è tupo, Erneso, ritronto a te. E' in calma il papo, che c'è trago, in calma. Dai, in calma. Il curo c'è. Il curo c'è. Ah, cazzo. Allora, noi andiamo a farinare. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Guido, sono pronti gli arosticini Guido in mezzo Panaro in mezzo le due corsie, dietro di te in mezzo, attento Guido, fanno cantare che è il primo non è male che non è stato in rampa fanno cantare che è il primo eh va bene no vai ragazzi è un bambino, calma, calma è accarmato in mezzo attenzione Nico, attenzione macchina Fili facciamo un po' di ghiaccio Fili vai il bar e il trofena dopo ti rimetti a posto la carena ti rimetti a posto la carena grazie grazie siamo a 4 minuti e 40 di gara gennari, natalino, natalini di Norsia fake taxi, civitalese, marzapani, artese, caeta e tacconi best lap in questo passaggio del pilota gennari un 45 437 un 45 437 ragazzi, gare finite chiudiamo in prima posizione gara 1 prima posizione gara 2 quarta posizione in gara 3 ma già le prime due vittorie bastavano per portarsi a casa la vittoria anti-doping anti-doping qui dicono dalla regia qui abbiamo il grandissimo Darietto Gabrielli dice che io ho sottoscritto ragazzo qui che mi sta inquadrando c'era tanto cioè è venuto qui oggi ma è detto da me, penso, no? sia una cosa bellissima guarda sono contento del compito che mi ha fatto è fatto il tuo, proprio il tuo sì 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 leggermente di meno ma piano piano ci si arriva con calma sempre lì sotto a dai e dai allenamento allenamento piano piano ti metti un attimo con lui a calcare tanto ragazzi chiudiamo il video così con Darietto che ha fatto il primo posto elettrico e il secondo posto scopo ma ha fatto una gara da paura veramente da paura grazie ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao